L'anno decimo quinto dell'impero di Tiberio Cesare, essendo governatore della Giudea Ponzio Pilato, tetrarca della Galilea Erode e Antipa, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide Filippo suo fratello e tetrarca della Bilene Lisania, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli si mise a percorrere il deserto della Giudea e tutta la regione del Giordano, predicando il battesimo di penitenza in remissione dei peccati. Egli è colui del quale parla Isaia quando dice, ecco, io mando innanzi al tuo cospetto il mio angelo, Giovanni, a prepararti la via. Voce di colui che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sarà colmata, ogni monte e colle sarà abbassato, le vie tortuose saranno fatte diritte, le scabre appianate, e ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Or Giovanni portava una veste di pelo di cammello con una cintura di cuoio ai fianchi. Suo cibo erano le locuste e il miele selvatico. E predicando diceva, fate penitenza, perché il regno dei cieli è vicino. Allora accorreva lui Gerusalemme, tutta la Giudea con tutto il paese d'intorno al Giordano, ed erano da lui battezzati nel Giordano, mentre confessavano i loro peccati. Ma avendo egli veduto molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro, razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira che vi sovrasta? Fate almeno frutti degni di penitenza, e non vogliate mettervi a dire dentro di voi, abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che Dio anche da queste pietre può far sorgere dei figli di Abramo. Già la scura è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Or quella turba lo interrogava dicendo, che dobbiamo dunque fare? Ed egli rispondeva loro, chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e dei cibi faccia altrettanto. Anche dei pubblicani andarono a farsi battezzare e gli chiesero, maestro, e noi che faremo? Egli rispose, non esigete più di quanto vi è ordinato. Lo interrogavano anche i soldati dicendo, noi che dobbiamo fare? E rispose loro, non vessate alcuno con estorsioni e false denunzie, e contentatevi delle vostre paghe. Ma stimando il popolo e pensando ognuno nel loro cuore che Giovanni fosse il Cristo, il Battista rispose a tutti dicendo, quanto a me io vi battezzo con acqua, ma sta per venire uno che è più forte di me, a cui non son degno di sciogliere prostrato a terra il legaccio dei calzari. Questi vi battezzerà in Spirito Santo e col fuoco. Egli col suo ventilabro in mano pulirà bene la sua aia e raccoglierà il frumento nel suo granaio, ma la paglia la brucerà col fuoco inestinguibile. Così e con molte altre esortazioni evangelizzava il popolo. Ora avvenne in quei giorni che Gesù, mentre tutto il popolo si faceva battezzare, partendo da Nazareth di Galilea, arrivò al Giordano da Giovanni per ricevere da lui il battesimo. Ma Giovanni lo distoglieva col dire, io dovrei essere battezzato da te e tu vieni a me. Ma Gesù gli rispose, lascia fare per ora, che ci conviene di adempiere così ogni giustizia. Giovanni allora condiscese e lo battezzò nel Giordano. Or Gesù, battezzato che fu, uscì subito dall'acqua ed ecco, mentre pregava, gli si apersero i cieli e vide lo Spirito di Dio scendere in forma corporea a guisa di colomba, venire e posarsi su di lui. Ed ecco una voce dal cielo dire, questo è il mio figlio di letto nel quale mi son compiaciuto. Gesù, quando incominciò, aveva circa trent'anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe, Deli, di Matat, di Levi, di Melchi, di Ianne, di Giuseppe, di Matatia, di Amos, di Naum, Dessli, di Nagge, di Maat, di Matatia, di Semei, di Giuseppe, di Giuda, di Ioanna, di Reza, di Zerobabel, di Salatiel, di Neri, di Melchi, di Addi, di Kosan, di Elmadan, di Er, di Jesu, di Eliezer, di Iorim, di Matahat, di Levi, di Simeone, di Giuda, di Giuseppe, di Giona, di Eliacim, di Melea, di Menna, di Matata, di Natana, di David, di Jesse, dobed, di Boots, di Salmon, di Naasson, di Aminadab, Daram, d'Ezrom, di Fares, di Giuda, di Giacobbe, di Isacco, d'Abramo, di Tare, di Nacor, di Sarug, di Ragau, di Faleg, d'Eber, di Sale, di Cainan, d'Arfaxad, di Sem, di Noè, di Lamec, di Matusalem, Denoc, di Iared, di Malaleel, di Cainan, Denos, di Set, di Adamo, di Dio. Or Gesù, ripieno di Spirito Santo, si partì dal Giordano e subito fu condotto dal medesimo Spirito nel deserto per essere tentato da Satana. E vi rimase quaranta giorni e quaranta notti, tra le fiere del deserto, senza mangiare niente. Ma dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, al loro termine finalmente ebbe fame. Allora il tentatore, accostandosi, gli disse, «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pani». Ma Gesù rispose, «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni cosa comandata da Dio». Allora il diavolo lo trasportò nella città santa e, avendolo posto sul pinnacolo del tempio, gli disse, «Se tu sei figlio di Dio, gettati di sotto, poiché sta scritto che agli angeli ha affidato la cura di te, ed essi ti porteranno nelle loro mani affinché non inciampi il tuo piede in qualche pietra». E Gesù a lui, «Sta anche scritto, non tenterà il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e, mostrandogli in un attimo tutti i regni del mondo e la loro magnificenza, gli disse, «A me sono stati dati e li do a chi voglio. Tutto questo dunque io ti darò, tutta la gloria e la potenza di questi regni, tutto sarà tuo, se prostrandoti mi adorerai». Allora Gesù rispose, «Va via Satana, perché sta scritto, adorerai il Signore Dio tuo e servirai a lui solo». Allora il diavolo, finito che ebbe di tentarlo in ogni maniera, lo lasciò e si allontanò da lui per un certo tempo. Ed ecco gli angeli vennero a servirlo». Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei di Gerusalemme gli mandarono dei sacerdoti e dei leviti per domandargli, «Tu chi sei?». Egli confessò e non negò, e confessò, «Non sono io il Cristo». Ed essi, «Chi sei dunque? Sei Elia?» E Giovanni, «No». «Sei tu il profeta?» «No», rispose. Allora gli dissero, «E chi sei?». Affinché possiamo portare una risposta a chi ci ha mandati, «Che dici mai di te stesso?». Egli rispose, «Io sono la voce di colui che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Esaia». Or quelli che erano stati inviati a lui appartenevano ai farisei e li interrogarono dicendo, «Come dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro, «Io battezzo con l'acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Questi è colui che verrà dopo di me e che era avanti di me, a cui non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari». Tutto ciò avveniva in Betania, oltre il Giordano, dove Giovanni stava a battezzare. Il giorno dopo, Giovanni vide Gesù venire a lui ed esclamò, «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Egli è colui del quale ho detto, «Dopo di me viene uno che è avanti di me, perché era prima di me». Or io non lo conoscevo, ma affinché egli sia conosciuto in Israele, io venni a battezzare con acqua». E Giovanni rese la sua testimonianza dicendo, «Ho veduto lo Spirito scendere dal cielo a guisa di colomba e posarsi su di lui. Io nulla sapevo di lui, ma chi mi inviò a battezzare con acqua mi disse, «Quello sul quale vedrai scendere e fermarsi lo Spirito è colui che battezza con lo Spirito Santo. Or io ho veduto e ho attestato che egli è il Figlio di Dio».